Eeeh, bella a tutti ragazzi sono Sammo e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo con Jacopo e Nicolò, salutate raga Salutati ragazzi, benvenuti oggi in questo nuovo video, sono ritornato dopo tempo Saluta Nicolò Ok, spero che li sentite In questa challenge che faremo oggi Dovremmo ogni kill che facciamo Dobbiamo ridere, siete pronti raga? Ok Jacopo sei pronto? Sì, è una bella challenge secondo me, sembra anche essere molto divertente Ok, comunque ragazzi Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perderti al video Ragazzi, comunque sono a livello 20 E ho la skin, come si chiama? Sto skin, no? Sunny Sunnius, Sunny mi sa Comunque sto super, sto super, quando cavolo esce? Ciao, ciao, attenzione Di nonno Bruno? Bruno E dove andiamo? A parte vorrei andare No, no, andiamo a Pannocchia, come si chiama, a Podera Ok Sì Jacopo, ti sei d'accordo? Io, 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 facciamo il video Così lo accostiamo E comunque, siamo tutti d'accordo di andare a Pannocchia, a Podera? A Podera Pannocchia? Sì, tutto qui Ok, perfetto Anche se un po' lancia con so No, raga, raga, non si sta bloccando più la visuale, perfetto No, raga, non si sta toccando più la visuale, che bello La mia nintendo sta lavorando Cosa? La mia nintendo sta cacciando aria Calma Eccomi, sono tornato di nuovo Ciao, ma dopo cent'ora Ma dove stai spiegando stai? Non dovevi scendere? Oh, a Podere Oh, a Podere Fannocchia, qua, come si stava Oh, i vecchi fannore Oh, in Traglietta Blu, già Oh, mio Dio Ragazzi, per vedere il strano Matiso, che bello Sì, è bellissimo Degli alieni Sì, è bellissimo Non ce l'hanno visto E raga, secondo me, nelle prossime settimane metteranno gli alieni parasciti, eh? Io di questo aggiornamento non lo sapevo Secondo me li possono mettere, sì Nelle prossime settimane li possono mettere Oh, perci come è vero, raga Io ho un asfalto verde Bravo Cos'era scambio con la mia mitraietta blu? Ma Ok, raga, ho trovato uno scildone, io No, raga, ok raga E per fortuna non si sta più bloccando la visuale E sono contentissimo Ragazzi, se l'asfalto non mi piace, mi porto allo splash Ma a me mi devo far portare allo splash, sai? Io mi faccio full E la vera è il più importante Raga, me la chiedo io la macchina, trovo forza Ma fermami, quello Volete venire? Io mi sento, raga E' un attimo che mi bevo sto scildone Guarda In già tanto io non la piglio No, mi hai rubato la macchina Guido io No, le casse potenti Che hai detto, Jacopo? Tu vado a prendere le casse, quella è buona L'armi aliena? Le nuove armi, vuol dire, quella è aliena? Io pure le voglio Oh, assalto blu Assalto blu, assalto Io ho questo Questa specie di lancia granate ma è inutile Raga, mi dà un salto verde Io ce l'ho bianco No, raga Sono contentissimo Non si sta più baggando Ok, sono contentissimo Ok, io ho trovato una cappa verde C'è un pompa del nonno bianco da me Ma a me non mi serve un pompa bianco Sii, è il giro 21 Venite raga? Un attimo Un attimo Un attimo Sii, cappa leggendaria Raga, lo sapete che è una cappa leggendaria? No guardate avete visto raga la mia tappa non ho capito niente le casse buone io mi prendo le casse buone me lo dai a me quello ok 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 non è uscito nessuno non hai fatto una kill nicolò Niccolò c'è terra, ho ucciso uno Niccolò ma non è fatto Niccolò non è fatta una kill Non è fatta la kill Come a me riesce Due kill Allora devi ridere Ho l'arma Ah 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 Però la kill me non è andata Ah 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 Raga io mi devo fare subito Mia arma aliena Raga vedete mi ha proteggito Ma che mi fanno nerdo No ho sparato questa cosa Ah ma questa ci serve per i nemici Ma sta bomba non serve Sta bomba non serve Non serve a niente E' inutile proprio Sto Sto Scanner non serve proprio a niente Gente 34 La cedola a me Oh mio Drago mi serve una monizia Mi stai rubando Tutte La tempesta è un peffalla che stai aspettando raga io mi faccio il vampa fucile leggendario io mi faccio il vampa fucile leggendario eccomi c'ho la jump l'ho fatta e sono uscita solo dalla semp ma neanche dalla semp guarda non mi sta allargando si infatti vedo la sua freccia così me ne chiamo papà no raga non voglio muovere raga io ce l'ho fatta ho sette alture di vita dici che me lo faccio il medichist sono vivo salvo dalla tempesta raga me lo faccio il medichist e io tengo il vampa e io tengo il vampa fucile la 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 raga mi hai dato un medichist che me li porto a presso io ho bisogno di un medichist dai un medichist e ti è ti è ti è lo che hai fatto oh no ai porca miseria cosa fa raga sono nemico sono nemico venite la lascia raga lasciatelo a me per favore io non ho kill no vabbè vabbè facciamo giochiamo ancora vabbè siamo ancora da 11 minuti in video non ci dobbiamo preoccupare da quasi 12 quasi tra pochissimi secondi ragazzi se attivate la campanellina vi darò un milione di euro ok se si vede è uguale è lasciato un like attivate la stampa la stamperellina la guida guida che tombola raga sono contentissima sono contentissimo che non stai più bloccando la visuale ragazzi ci si vede ah raga raga un sondaggio faccio un sondaggio zitti zitti un attimo faccio un sondaggio raga allora allora preferite che nel prossimo video live metto sondaggio adesso ho ninja scrivetelo giù nei commenti raga andiamo ragazzi ragazzi per questo video ci aspettiamo a meno 50 mi piace andiamo e andiamo e andiamo a passo no andiamo no andiamo a sepia andiamo a sepia ok tanto per decida io mi sono ritrovata già niente e troverò sempre 90 ok ragazzi se chi ne ha voglio sapere che abberto ha fatto l'ha fatto ha fatto ha fatto la parodia di ma ma carina ha fatto quarantena 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 guardi ma perché c'è il comito no si non è lo sconfitto ci credo tutti i giorni tutti i giorni hanno tolto il coprifuoco vabbè non parliamo del covid parliamo di altre cose più importanti in senso di questo è una cosa importante però no ma stiamo giocando fortnite che c'entra non ho capito niente i ragazzi non hanno capito niente jacob del lago del po il lago del ma be raga non ci fate caso che io non manco io ho capito cosa ha detto io no vabbè ma io sono stupido io non ho capito raga 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 se volete un video raga 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 se arriviamo se arriviamo a mille like vi farò vedere tutto il mio armadietto di fortnite tutte le mie skin quindi raga e poi dopo farvi vedere il mio armadietto ci vorrà un botto perché ho tante skin faremo faremo qualche partita riatt brass raga raga Di una stagione di bluestars raga raga scusate scusate ragazzi che non dimenticato della vabbè non fa niente ma il lancio granate andiamo in zona sicura io vedo in zona sicura addio ragazzi venite tutti a sto cristallo per favore che dobbiamo il cristallo cosmico così venite tutti qua raga vieni Jacopo vieni qua Jacopo così facciamo sta cosa del cristallo apriamo la cassa la cassa raga la cassa è mia però eh non tirano le tue armi no c'è armi ti danno se mi sbaglio c'è le armi a ciascuno Jacopo ti... Jacopo... Jacopo vieni friggati Jacopo usa la cassa che siamo la cassa stiamo venendo stiamo venendo stiamo venendo stiamo venendo stiamo venendo Jacopo muoviti che sei per 18 minuti in video Jacopo stiamo facendo la cassa di torno Jacopo muoviti stiamo venendo perca miseria guarda una cassa ne 17.000 i kit Jacopo muoviti ma è possibile che qualcuno non ha medici io ce l'ho bene dai uno l'unico eh e vuoi un altro buono Dov'è l'altro punto debole? Ho le mie, ho le mie, ho le mie, mi ama questo cristiano, mi ama, qualcuno ha la, niente, mi sono scusata. Dov'è l'altro punto debole? Eccolo, domani noi abbiamo male. Dammi lo spasso, dammi lo spasso, davvero dammi lo spasso. no 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 è mio è mio vabbè è tutto schifoso è tutto schifoso in sto cavolo di forziero non c'è un cavolo io c'è scudoglio venni dai venni dai venni dai venni dai venni venni dai venni dai venni no io lo so perchè non ha scudoglio come non ha scudoglio grazie Jacopo non c'è un cavolo ma c'è un cavolo ma c'è un cavolo ma c'è un cavolo io me ne scappo aspettatemi a cambiare vostre venni chiedegli cambiate le postazioni se non erai postazioni giove di me la nostra azienda quando io ti mangio la mentira con macchina e poi non ti danno che quella la camera ti muovi se non ti so ti do una scuola ti do una rapata ti do mi piace state zitti dal quaccio al nemico? state zitti la va comunque venite dietro a me ma siamo io dove sta? eccolo il tizietto eccolo il tizietto grazie 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 che mi avete fregato la kill sapete? grazie grazie che mi avete fregato la kill la e sarai per sempre la mia lady ah 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 e per la punta di piedi la la allora raga e sarai per sempre la mia lady ah 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 e cammini in punta di piedi la ra 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 e sospetti anche tu tollermente ok co c'è che ce la vada così e da stagli adesso lascia i pulsori in tutto questa cosa questa cosa sto parlando ma ma tra la solo sapevate la ma adesso saltelle la roda ok ok p io ci vediamo ok sta a segno mi sparano porca loca ok c'è un tizietto ok c'è un tizietto ahahahahahahah quello che mi serviva internet non lo intendo jacobo la nintendo e non a internet e non la nintendo livello 27 perché io sono livello 21 vado a prendimi la idropa 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 è mio io l'ho visto prima io no no sono nemici c'è un ufo malefico vado a non ci posso vedere intendo di stupido di guardare un'altra no il capo lo dice jacobo la nintendo è stupenda io vabbè tutta la nonna è lasciata di far 15 di viva hai trovato un video di pizzo mio no nicolò però ti pensi alle cose stupide ci sono nemici sai sì ma porca capo basso la veron colo che cabbo che 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 cabbo capo però è io ho rapo hai capito ma hai capito ma l'ho detto che capo vabbè vabbè andiamo in lobby dai no no dobbiamo chiudere il video in 26 minuti già quasi 27 ok vabbè andiamo in lobby ah 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 ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e al prossimo video ciao raga ah 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 ah